Musica Telesina, la vittoria degli automobilisti, la prefettura di Benevento archivia i verbali. Mal tempo, voraggini, negozi allagati e disagi per i residenti di Napoli, a Ischia, uomo avvistato in canoa, video su Facebook diventa virale. Sarà un perito nominato dalla procura a eseguire gli accertamenti sui dispositivi che l'ex finanzato di Tiziana, la donna di 31 anni che si è tolta la vita a Mugnano a causa della diffusione di video che la ritraevano, ha consegnato ai carabinieri nell'ambito delle indagini. Controlli e posti di blocco non c'era inferiore presidiata dopo gli ultimi accadimenti di cronaca. I cittadini chiedono sicurezza. Appalti truccati al comune di Benevento, obbligo di dimora per l'ex dirigente Mancini. Appuntamento con lo sport e la solidarietà, Bayadomizia il 18 settembre, ultima tappa del Giro d'Italia di Handbike, la gara nazionale per atleti disabili. Nuovo appuntamento con l'informazione di Mediatv, lo abbiamo appena sentito. Buone notizie per chi ha presentato ricorso alle multe prese lungo la Telesina, Benevento Caglianello, a causa degli autovelox. Annunciata l'archiviazione, il comitato invita a non pagare. Sentiamo i dettagli. Verbali, proteste e dossier sembrano essere serviti a qualcosa. Stanno arrivando agli automobilisti che hanno fatto ricorso attraverso un'associazione di tutela e di difesa dei diritti degli automobilisti le archiviazioni dei verbali emessi dai comuni ricadenti sulla strada statale 372 Benevento Caglianello, che hanno piazzato gli autovelox approfittando anche del fatto che in quel tratto stradale il limite è di 60 km orari. L'area 3 della prefettura di Benevento, a firma della dottoressa Olimpia Cerrata, ha accolto i ricorsi e ordinato l'archiviazione dei verbali, quindi ha riconosciuto vali delle motivazioni che sono alla base dei ricorsi, per esempio mancanza di visibilità, mancanza assoluta di segnaletica stradale, in alcuni casi omessa indicazione della chilometrica stradale sui verbali. Anche la stessa polizia stradale ha confermato alla prefettura che le osservazioni erano coerenti e cogenti al codice della strada, per quanto riguarda le postazioni autovelox dei comuni di Paopisi, Pugianello, Torricuso e Amorosi. Siamo molto soddisfatti di queste prime archiviazioni, dice l'avvocato Antonio Turdò, presidente del comitato. Credo che moltissime altre seguiranno. È una certificazione che quando si muove, l'associazione di solito colpisce, si pensi alla strada statale 652 Trignina, all'autovelox di Cantalupo nel Sannio, quello di Macchia di Isernia o Vinchiaturo. Dovunque riusciamo a dimostrare il non rispetto della legge da parte di coloro che la vogliono far rispettare a noi automobilisti. Il comitato quindi invita tutti gli automobilisti d'Italia a non pagare le multe e a pensare che probabilmente è giunta l'ora di uscire da un ambito localistico e di creare una federazione italiana dei diritti degli automobilisti che spazi su tutto il territorio nazionale e diventi interlocutore autorevole delle istituzioni al fine di regolamentare la gestione dei controlli autovelox e lavori di concerto per incrementare la sicurezza stradale e la prevenzione. Era andata a fare la spesa e stava tornando a casa con il nipotino in braccio a Malia Sepe quando i sicari sono entrati in azione. L'agguato è scattato a Napoli in almeno due, la stavano aspettando davanti all'uscio dell'abitazione del figlio. le hanno puntato la pistola alla testa e le hanno strappato il bimbo dalle braccia costringendo Giuseppe Telese, loro vero obiettivo a uscire allo scoperto mentre uno dei due sicari aveva ancora il bambino in braccio e l'altro ha sparato alcuni colpi di pistola. Ed ora ci occupiamo del maltempo in Campania che ha provocato voraggini ma anche negozi allagati. A Dischia pensate un uomo è stato avvistato in canoa. Un video su Facebook è diventato virale. Vediamolo. Il maltempo continua a non dare tregua. Nubi fragi e bombe d'acqua si sono abbattuti sul centro Italia e la Sardegna provocando allagamenti, disagi e alla circolazione feriti e la pioggia è caduta intensamente anche sulle zone terremotate delle Marche, dell'Umbria e del Lazio. Tra le città più colpite anche Napoli, in tilt il centralino dei Vigili per le numerose chiamate giunte nelle ultime ore a causa del maltempo che si è abbattuto sulla città. Le forti piogge hanno provocato allagamenti e disagi in diverse zone. In particolare, la maggior parte delle richieste di intervento giunge dalla zona flegrea, mentre sono diversi i quartieri di Napoli dove l'acqua ha provocato allagamenti. Un vero e proprio diluvio si è abbattuto sulla zona dei Ponti Rossi. Diverse le squadre dei pompieri impegnate per gli interventi. E dopo il temporale che si è abbattuto sulla serata di ieri su Napoli e provincia, un uomo di l'acqua a meno sull'isola d'Ischia è andato in giro per le strade del comune in canoa, compiendo un vero e proprio slalom tra le auto. Un'impresa finita su Facebook con un video che ha fatto il boom di contatti ed è diventato virale. Per ora le previsioni non fanno ben sperare. Il maltempo continua a imperversare anche nel weekend e gli effetti della perturbazione si estenderanno sulla Triveneto e sulla Campania, anche con grandinate e forti raffiche di vento. Secondo una nuova allerta della protezione civile, temporali e nubi fragi saranno accompagnati da un sensibile calo delle temperature. A Pignataro Maggiore, un uomo di 51 anni, Claudio D'Ambrosio, è stato trovato senza vita da un conoscente all'interno del modestissimo monolocale in cui viveva da quando si era separato dalla moglie. Lascia anche due figli. D'Ambrosio abitava in un locale al piano terra in via Regina Elena, dove un suo amico aveva notato la porta che dava sulla strada aperta, si è avventurato scoprendolo senza vita sul letto. Un primo esame esterno del cadavere ha indotto nei sanitari anche il timore che dopo il decesso sia stato morsicato dai topi. Sarà l'autopsia a stabilire le cause della sua morte. La Polizia di Stato di Caserta ha tratto in arresto un 38enne di Arzano per violazione della misura della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno. L'uomo è stato però anche denunciato assieme ad altri due concittadini di 31 e 17 anni per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Un'arissa con due agenti di polizia penitenziaria rimasti contusi e che hanno dovuto ricorrere alle cure mediche si è verificata all'interno del carcere di Santa Maria Capoavetere a causarla un detenuto nella stessa città del foro che aveva in precedenza sfasciato i servizi igienici della sua cella. A denunciare l'episodio è stato il SAP, sindacato di categoria della Polizia Penitenziaria. I carabinieri della stazione di Cesa hanno dato esecuzione all'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere messa dal GIP presso il Tribunale di Napoli Nord nei confronti di Antonio Campanile, classe 92 del luogo, in atto già sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per altro reato. L'uomo è ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia in danno della madre convivente. Le indagini condotte dai militari hanno consentito di ricostruire diversi episodi di minacce e aggressioni fisiche poste in essere dall'arrestato ripetute da diversi mesi e finalizzate ad ottenere dall'anziana donna somme di denaro per l'acquisto di sostanze stupefacenti. Sarà un aperito nominato dalla Procura a inseguire gli accertamenti sui dispositivi che l'ex fidanzato di Tiziana, la donna, lo ricorderete, di 31 anni che si è tolta la vita a Mugnano, provincia di Napoli, a causa della diffusione di video, ha consegnato ai carabinieri nell'ambito delle stesse indagini. Sentiamo. Questa gogna mediatica alla quale ora per ora sono sottoposta mi sta avvicinando al suicidio. Così Tiziana, la ragazza di 31 anni che si è uccisa nei giorni scorsi nel napoletano dopo la diffusione di video hard che la riguardavano, scriveva in una querela presentata in Procura a Napoli nel 2015. Quello che sta accadendo assume i connotati di una totale devastazione nei confronti della mia persona che già di per sé ha profili di psicolabilità. Tiziana aggiunge È vero che sono stata una sprovveduta a fare giochetti stupidi con persone a me sconosciute, ma è anche vero che quanto sta adesso accadendo, riferendosi sempre ai video, mi avvicina in maniera veloce a istinti di suicidio. Questo accanimento provoca danni incalcolabili in me, pregiudica in maniera assoluta e irreparabile il mio futuro di ragazza di 30 anni. Resta il mistero sul perché la donna, sentita quattro mesi dopo la presentazione della denuncia, abbia ritrattato le accose. Intanto i carabinieri hanno sequestrato PC, tablet e telefonino dell'ex fidanzato. Per il momento quattro persone sono indagate per diffamazione nei confronti di Tiziana. Si tratta di coloro ai quali la giovane diede i video e che furono da lei querelati. I quattro furono iscritti lo scorso anno nel registro degli indagati, dal procuratore aggiunto di Napoli, Fausto Zuccarelli e dal PM Alessandro Milita. Attivisti dei movimenti napoletani del comparto, della logistica e dei sindacati di base hanno manifestato, così come in altre città italiane, davanti alla sede della GLS di Mariglianella a Napoli. Dopo la morte dell'operaio investito da un tir durante un picchetto di sciopero a Piacenza, i manifestanti hanno esposto due striscioni con scritto «Ora ammazzateci tutti, abbiamo bloccato i tiri in uscita a oltranza finché si legge in un comunicato, non abbiamo ottenuto dai dirigenti aziendali di poter entrare nei capannoni a confrontarci con i tanti facchini di turno e distribuire loro volantini di denuncia». Illecita concorrenza nella gestione della Movida di Salerno è cospiegata l'aggressione a due promoter, organizzatori di feste. Sentiamo. Tutto nasce da una denuncia di un imprenditore da poco entrato nel mondo dell'intrattenimento notturno, un mondo fatto di regole non scritte, di rapporti, di patti. Evidentemente il nuovo asset, l'inattesa e pericolosa concorrenza, avrebbe fatto saltare banco e nervi. È sostanzialmente questo lo scenario tratteggiato dalla Procura di Salerno che ha deciso di accendere i riflettori sulla vita notturna salernitana sui locali che garantiscono divertimento e lavoro, in poche parole, riflettori su una guerra senza esclusione di colpi per accapararsi i clienti dei locali della Movida. Proprio queste ragioni avrebbero indotto al pestaggio di due promoter, rei appunto, di lavorare per discoteche concorrenti. Le indagini dei carabinieri hanno ricostruito che i due promoter furono spinti in auto con la forza, che le chiusure della sicurezza furono abbassate e che già nell'abitacolo uno dei due arrestati si sarebbe scagliato contro di loro, prima con un pugno e poi spingendo la testa di uno dei due contro un finestrino. Il resto sarebbe poi avvenuto nello slargo sottostante piazza della Concordia. Negli atti dell'inchiesta si parla di pugni e di teste sbattute contro superfici metalliche. Secondo le difese, che cercheranno di smontare l'accusa già nell'interrogatore di garanzia portando testi e filmati, le presunte vittime, i PR appunto, entrarono in auto volontariamente, non spinti, ed uno dei due arrestati si sarebbe limitato solo ad un paio di schiaffi infastidito dai tentativi di interferenza con le sue attività. Si vedrà, intanto, la sensazione che l'inchiesta sulla Movida Salernitana sia appena cominciata. Si sono aperte le porte del carcere Regina Celi di Roma per un cinquantenne erpino gravato da svariati precedenti di polizia e domiciliato in un comune alle porte della capitale autore di ripetute condotte di violenza sessuale e danni della cugina minorenne. L'attività di indagine prende spunto da una segnalazione da parte dell'ufficio Servizi Sociali. Dal gennaio al marzo del 2016 la minora è stata costritta a subire abusi da parte dell'uomo che approfittando della fiducia in lui in riposta ha trasformato l'infanzia della ragazza in un vero e proprio incubo, finito grazie all'intervento dei carabinieri del comando provinciale di Avellino. Denunciato un trentenne di Forino, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare i carabinieri della stazione locale coadiuvati dai colleghi del nucleo cinofili di Sarno, dopo diversi servizi di osservazione e controllo hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l'abitazione del giovane già noto alle forze dell'ordine, rinvenuti occultati all'interno di un cassetto della cucina, circa 20 grammi di hashish già suddiviso in dosi confezionate in bustine di cielo. Fan scoperto rinvenuto un bilancino di precisione utilizzato per il confezionamento delle dosi. Il pregiudicato è stato quindi deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino diretta dalla Procuratore Rosario Cantelmo, quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. A Senerchia invece hanno sottoposto agli arresti domiciliari un pregiudicato 29enne del luogo che dovrà espiare alcuni mesi di reclusione. Lo stesso già noto alle forze di polizia nel 2014 è stato tratto in arresto dai carabinieri per il furto di un'auto e per questo motivo al termine del procedimento penale era stato condannato e dovendo scontare ancora quattro mesi di reclusione il Tribunale di Sorveglianza di Salerno ha emesso un'ordinanza con la quale ha disposto l'espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare. A parti truccati al Comune di Benevento, obbligo di dimora per l'ex dirigente Mancini. Sentiamo i dettagli. Torna in libertà Angelo Mancini, il dirigente del Comune di Benevento coinvolto nell'inchiesta Euroscopio condotta dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale coordinata dai magistrati della Procura Sannita. Il GIP Flavio Cusani ha stabilito la misura dell'obbligo di dimora nei confronti del 46enne ex dipendente di Palazzo Mosti. Mancini era stato tratto in arresto lo scorso 27 giugno. Insieme ad alcuni imprenditori nel campo idile tutti erano accusati a vario titolo di reati contro la pubblica amministrazione in particolare di concorso in corruzione aggravata e reiterata oltre a turbativa di gara in appalti pubblici. Secondo gli inquirenti infatti gli indagati si avvalevano dello strumento medico dotato di una speciale microtelecamera e di un lungo e stretto beccuccio a fibra ottica. L'apparecchio sarebbe stato usato per penetrare senza lasciare tracce visibili all'interno delle buste presentate dalle ditte e contenenti l'offerta per le gare d'appalto, uno stratagemma per rasbirciare il contenuto stabilendo così in anticipo il punteggio da attribuire alle imprese in gara e destinare l'appalto alla società prescelta. Nocera Inferiore, torniamo in provincia di Salerno presidiata, controlli rafforzati da parte delle forze dell'ordine per aumentare la sicurezza dopo gli episodi di sparatorie. Sentiamo. Sirene spiegate, lampeggianti blu in funzione in vari punti della città. Nocera Inferiore presidiata costantemente dalle forze dell'ordine. Ieri sera un'operazione interforza per effettuare controlli in diversi quartieri. Nocera vuole sentirsi più sicura, specie dopo gli episodi degli spari e di criminalità che ne hanno minato la serenità. L'attività di controllo predisposta dall'amministrazione Torquato a tutela della sicurezza ha visto impegnati gli agenti della Polizia Municipale, l'ordine del Maggiore Giuseppe Contaldi con la collaborazione di Polizia di Stato e Carabinieri. La lunga serata di controllo del territorio, durata tre ore, si è concretizzata con numerosi sopralluoghi effettuati anche in alcuni locali di intrattenimento per verificare la regolarità delle licenze d'esercizio per l'occupazione del suolo pubblico e le autorizzazioni per la diffusione di musica. Dunque tre ore di intenso lavoro durante le quali sono stati controllati 24 veicoli, 30 persone, elevate 5 contravvenzioni per violazione del codice della strada, ritirata una patente. I controlli nei locali notturni hanno portato a tre specifiche sanzioni amministrative, due per l'occupazione di suolo pubblico, una per la non regolarità dell'autorizzazione di diffusione musicale. In questo fine settimana i controlli si ripeteranno, così come aveva chiesto espressamente il sindaco Torquato dopo l'incontro con il prefetto di Salerno Salvatore Malfi e al quale presero parte anche esponenti delle forze dell'ordine locale. Tra l'altro, nelle ore antecedenti a questa straordinaria attività di controllo, la polizia ha provveduto ad un ulteriore sequestro di armi in città col deferimento di un 35enne di Nocera Inferiore per illecita detenzione. Risultati di un'altra operazione di polizia che sta passando al setaccio la città di Nocera Inferiore dopo i fatti delittuosi delle scorse settimane quando fu gambizzato un pregiudicato e furono sparati colpi d'arma da fuoco in varie zone della città. La guerra in atto tra clan per il controllo dello spazio di sostanze stupefacenti ha dunque provocato la reazione forte degli inquirenti. La polizia durante la perquisizione a casa del 35enne ha rinvenuto una pistola calibro 22, un lanciarazzi, un fucile calibro 16, alcune armi di cui è consentita la vendita, qualche sfollagente. L'uomo, incensurato tra l'altro, è stato deferito, ma i poliziotti di Nocera, agli ordini della dottoressa Sessa, stanno effettuando accertamenti per verificare eventuali responsabilità connesse al possesso illecito delle armi. Il prefetto di Caserta, Arturo De Felice, ha nominato il commissario prefettizio che nei prossimi mesi avrà le redini del comune di Piedimonte Matese. Si tratta del vice prefetto Luigi Palmieri, dirigente dell'area ordine e sicurezza pubblica e dell'ufficio antimafia in prefettura. A seguito delle dimissioni della maggioranza di Piedimonte Democratica che hanno comportato lo scioglimento del Consiglio Comunale, si è reso indispensabile per il comune Matesino il commissariamento sino al voto. Il coinvolgimento del sindaco e di parte della giunta nell'inchiesta a sovigliatutto della procura di Santa Maria Capavetere ha portato alla fine anticipata dell'amministrazione Cappello, che era il suo secondo mandato amministrativo, prossima alle elezioni nel 2017. Nei prossimi mesi, al vertice del comune, ci sarà il dottor Palmieri con il compito di guidare la città sino alla prossima tornata amministrativa. Intanto, nell'ambito della stessa inchiesta, continuano gli interrogatori e le richieste dei legali. Fiamme gialle in cattedra, al liceo Carducci di Casa Marciano, provincia di Napoli, dove gli uomini della Guardia di Finanza del Comando di Nola hanno tenuto una lezione sulla legalità economica. A prendere la scena sono stati anche i cani dell'unità cinofila della Guardia di Finanza che, insieme ai loro addestratori, hanno stupito tutti con le loro abilità. Il principe Carlo di Borbone, due Sicili e la consorte principessa Camilla parteciperanno lunedì 19 settembre alla cerimonia religiosa celebrata dal cardinale arcivescovo Crescenzo Sepe nel Duomo per la festa del patrono di Napoli. La presenza rientra nel programma di una visita in città che vedrà i principi nel pomeriggio nella Basilica di Santa Chiara per consegnare alcune borse di studio ai bambini delle scuole delle periferie partenopee e per rendere omaggio alle tombe dei Borbone. Seguirà una passeggiata tra Spacca Napoli e le bottighe degli artisti e artigiani di San Gregorio Armeno. Dal 19 al 24 settembre si svolgerà a Campobasso la quarta edizione della Summer School del corso di laurea in Scienze Politiche dell'Università del Molise. Questa edizione sarà dedicata al Mediterraneo e all'Europa, i Balcani, l'Egitto, la Tunisia, Turchia e Grecia. Intanto l'intento è quello di riflettere sui tanti legami tra l'Italia, l'Europa e il Mediterraneo nella consapevolezza che ci si trovi di fronte ad una storia comune che non è possibile ignorare. Interverranno relatori italiani e stranieri, appuntamento dunque lunedì 19 settembre alle ore 9.30 con la lezione inaugurale che si aprirà con l'indirizzo di benvenuto del Rettore e Professor Gianmaria Palmieri. La prolusione introduttiva, incentrata sulla primavera araba, sarà a cura dell'Avvocato Francesco Caia tra i componenti di un collegio internazionale di giuristi a tutela dei diritti e delle libertà di coloro che parteciparono alla transizione democratica tunisina. E torniamo ad occuparci del Terzo Convegno Ecclesiale Diocesano Cristiani per scelta iniziare alla vita nuova del Vangelo. Il convegno in programma a Sessorunca dal 19 al 21 settembre. A Sessorunca dal 19 al 21 settembre i lavori del Terzo Convegno Ecclesiale Diocesano sul tema Cristiani per scelta iniziare alla vita nuova del Vangelo. Alle ore 18 presso l'auditorium diocesano Papa Francesco il primo giorno interverrà Monsignor Paolo Sartor, direttore dell'Ufficio Catechistico Nazionale CEI. La seconda giornata vedrà i convegnisti impegnati nei laboratori pastorali. Incontrare Papa Francesco, ascoltare la sua voce, vivere la celebrazione alla Cattedra di Pietro per confermare la fede. Abbiamo sempre più bisogno di trasformare la fede in misericordia, proprio perché la misericordia esprime la fede non solo in Dio, ma è anche la fiducia che Dio ripone in noi come strumento della sua misericordia. Questo nostro giubileo sarà sicuramente un appuntamento importante e decisivo. Vi prego di viverlo con l'entusiasmo della fede e soprattutto nella fedeltà, anche nei sentieri più difficili, quello che sembra impossibile percorrere. Il convegno si chiuderà il 21 settembre con il pellegrinaggio giubilare Diocesano a Roma. La giornata prevede l'udienza con il Santo Padre, il passaggio per la Porta Santa e la celebrazione eucaristica dall'altare della Cattedra di San Pietro, presieduta da Monsignor Piazza. E restiamo proprio a Sessorunca, dove domenica ci sarà un appuntamento con lo sport e la disabilità. Bayadomizia ospiterà infatti l'ultima tappa del Giro d'Italia di Handbike, la gara nazionale per atleti disabili. Sentiamo. Prima tappa, Giro in the Bike al Sud. Eccellenza, la Dioce si accompagna a questo viaggio, questa nuova esperienza per il Sud? Sicuramente sono due i motivi per cui la Dioce si sostiene e perché no garantisce una presenza significativa. Il primo motivo è l'entusiasmo che le persone, soprattutto sportivi dell'handbike, che gente che si misura con lo sforzo, con l'impegno e soprattutto è testimone di una grande volontà, richiamano per tutti noi nella nostra realtà sociale civile. Le tante difficoltà dei diversamente abili non sono un impedimento, addirittura sono una condizione attraverso cui esprimono nello sport la loro grande volontà e la capacità di rispondere in concreto a queste difficoltà. Il secondo motivo è perché è un momento di festa e sicuramente il nostro territorio attraverso queste presenze risente di una spinta positiva. Ecco perché non potevamo mancare, dovevamo sostenere e sosteniamo con grande impegno e con grande disponibilità questo momento celebrativo ma al tempo stesso anche un momento di sport, di gioia, di vita. E siamo proprio alla pagina sportiva. Latina e Benevento hanno pareggiato uno a uno nella partita per la quarta giornata di Serie B. La gara è stata giocata allo stadio Francioni davanti a 2429 spettatori. Grazie ad un primo tempo scoppiettante il Verona supera con disinvoltura l'Avellino al Bente Godi chiudendo il match 3 a 1. Nella ripresa il Verona cerca di amministrare il sfero al poker, soprattutto con conclusioni di Ganz. A Salerno sorride solo il Vicenza che ottiene la prima vittoria in campionato rifilando tre reti ed una salernitana ancora alla ricerca di una propria identità. Lega Pro Girone C, il prefetto di Lecce in occasione della gara Lecce-Casertana in programma allo stadio Via del Mare di Lecce domenica 18 settembre alle ore 20 e 30 ha disputato e ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in regione Campania. L'ordinanza arriva dopo che il comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive aveva posto all'attenzione del prefetto l'incontro indicato per le criticità poste in essere dalle tifoserie suggerendo proprio il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti Campania. Ed era questa l'ultima notizia, vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo a voi tutti, una buona domenica, arrivederci. Previsioni dunque per il 18 settembre. I temporali si spostano al sud e insistono ancora su parte del centro. Bel tempo invece al nord. Ecco il dettaglio realizzato da ilmeteo.it. Al nord come detto avremo una bella giornata con cielo sereno poco nuvoloso su tutte le nostre regioni. Spostiamoci al centro. Temporali pomeridiani possibili su Abruzzo, Molise, Lazio e Marche Meridionali. Decisamente più soleggiato altrove e in Sardegna. Raggiungiamo infine il sud. Sarà instabile con possibili temporali sparsi su Campania, Calabria, Puglia e Messinese. Più soleggiato invece in Basilicata. I venti saranno da nord su tutti i bacini molto forti sul medio adriatico. Temperature previste per questa giornata. Minime che risultano essere in ulteriore diminuzione al nord con clima decisamente molto fresco, un po' più stazionarie altrove. Durante il giorno prevediamo 22-27 gradi al nord, 20-28 gradi al centro e non più di 26 gradi al sud.